. Cecilia e Ignazio, mattino 5, lei parla degli amici di Monte, lui fa una promessa. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti a mattino 5, tornano a parlare della loro storia d'amore, le paure di lei e le promesse di lui. . La relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha fatto discutere molto il pubblico del grande fratello Vip nell'ultimo periodo. Fuori dalla casa però la storia tra i due procede senza intoppi. A mattino 5 dichiarano infatti di essere molto innamorati e di vivere liberi e senza restrizioni il loro rapporto. Gli impegni lavorativi non hanno permesso loro di stare molto insieme come era successo nel reality di Canale 5, tuttavia, riescono comunque a vedersi sempre e a fruttare al meglio il tempo a loro disposizione. Federica Panicucci inoltre chiede alla coppia di parlare anche di quali fossero le preoccupazioni maggiori di entrambi, sia prima che dopo l'esperienza al grande fratello Vip. . La prima a rispondere è proprio la Rodriguez. . Cecilia Rodriguez, gli amici di Francesco Monte non mi hanno abbandonata. Cecilia spiega nello studio di mattino 5 quali fossero le sue paure più grandi dentro la casa. Avevo paura di restare senza amici spiega l'Argentina che, dopo la rottura con Monte, era preoccupata di rimanere sola. . Molti dei suoi amici, infatti, sono anche amici di Francesco, e quello che temeva di più è che questi le voltassero le spalle. . . Uscita dalla casa, però, la Rodriguez ha dovuto ricredersi. Gli amici di Francesco Monte non mi hanno abbandonata dichiara infatti lei alla Panicucci, anzi, stando alle sue affermazioni, gli stessi l'avrebbero capita. . Lo stesso sostegno che, tuttavia, sia lei che Ignazio, non hanno avuto da parte della gente. . Forse non sono abituati a vedere gente che si ama, dice lei. . Ignazio Moser e la promessa a Cecilia, ho occhi solo per lei. . Durante la trasmissione altri sono stati gli argomenti trattati dalla conduttrice, primo tra tutti quello riguardante la famosa agenda di Moser. . L'abbiamo bruciata, dicono i due ridendo. . . La vita amorosa di Ignazio prima di incontrare Cecilia infatti, spiega lo stesso Moser, è nota a tutti. . . Oggi però l'ex concorrente del grande fratello Vip ha dichiarato di avere occhi solo per Cecilia. . Non vuole stare con nessuna se non con lei. . . . . . . . Invece di farse li scivolare addosso. Vogliono in reality conclude dicendo poi Ignazio ma la gente non aspetta altro che giudicare.